L'ultimo appuntamento per il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia prima delle vacanze è più tecnico che politico. Due soli punti all'ordine del giorno e la necessità di approvare il progetto relativo all'allargamento della strada provinciale 5 che collega la città del Sale con Zapponeta. Lavori di ammodernamento e allargamento del piano viabile per un importo complessivo di 6 milioni di euro. Progetto che aveva ottenuto il via libera regionale per quanto riguarda il palere paesaggistico e sulla cui urgenza si è espressa anche la provincia BAT chiedendo al comune di Margherita di Savoia di non differire oltre l'approvazione dello stesso. Approdato in un Consiglio Comunale che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto essere monotematico salva dover discutere una seconda questione, anche questa puramente tecnica. Perché l'Assemblea cittadina doveva chiudere l'argomento sulla presunta incompatibilità dei consiglieri comunali d'opposizione Ruggero Piccolo e Francesco Galante. Argomento che era stato già affrontato in occasione dell'insediamento del Consiglio Comunale a seguito di una lettera, risultata poi falsa e sulla quale sta indagando la polizia del Movimento 5 Stelle inoltrata al sindaco di Margherita e al prefetto della BAT. Per chiudere in maniera definitiva la faccenda era necessario mettere agli atti anche le risposte scritte dei consiglieri chiamati in causa. Una volta per tutte è stato chiarito che non esiste nessuna incompatibilità per i due esponenti della minoranza.